5, 6, 7, vai! Abbiamo dei gruppi di circa 20-25 persone, cominciamo alle 9 e mezza e finiamo alle 12 e mezza, tre ore consecutive. Sono corsi di ballo ma prevalentemente sono basati sul divertimento, la gente non viene per uscire ballerino ma per uscire col sorriso e divertirsi un'ora. È un modo diverso di far movimento, quindi non è la classica ginnastica, si esce belli sudati, belli affaticati ma è un modo diverso di far movimento utilizzando soprattutto anche molto la mente. Quanto tempo balla nelle palestre UIS? Quattro anni, quasi cinque. Perché ha scelto i balli di gruppo? Perché mi diverto, perché mi rilasso e mi passo un'ora diversa anche in compagnia. Due anni che vengo a ballare qui nella palestra per fare un po' di vita sociale perché a casa le casalinghe non le fanno, invece qua ci si unisce, si fa delle amicizie e poi ci si muove il corpo, tutto quanto, alla nostra età insomma. Le piace? Si trova bene? Da morire, da morire, a me piace il ballo quindi è quello che mi ci voleva. Che! 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 Ci passano un'ora in compagnia, quattro salti via.